Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi non andremo solo imparare come utilizzare il buzzer di arduino ma anche a come scrivere una canzone che poi verrà riprodotta da un buzzer come da una cassa passiva. Innanzitutto un buzzer come potete vedere è un componente piezoelettrico. Questo significa che quando gli viene garantita una differenza di potenziale ai suoi capi al suo interno avverrà una deformazione meccanica. Questa deformazione meccanica appunto andrà a fare vibrare una membrana che potrà riprodurre dei suoni. Nel kit di arduino potete trovare due tipi di buzzer differenti quello attivo e quello passivo. In poche parole il buzzer attivo una volta alimentato riprodurrà sempre un suono. Invece il buzzer passivo riprodurrà un suono soltanto se gli viene fornito un segnale di tipo pvm. Ogni buzzer ha un pin contrassegnato con il più il quale dovrà essere collegato alla fonte di alimentazione. L'altro pin invece andrà collegato al ground. Un esempio di collegamento che possiamo fare con il buzzer posizionandolo sulla breadboard si potrebbe collegare il pin positivo quello con il segno più sul buzzer al pin 10 di arduino che è un pin pvm mentre l'altro pin del buzzer lo si collega al ground. Oggi però proviamo a fare le cose un po' più in grosso. Prendiamo una cassa passiva. Il principio di funzionamento è circa lo stesso del buzzer. Utilizzeremo anche un potenziometro per gestire la tensione di alimentazione di questo piccolo diffusore e un condensatore per migliorare la qualità del segnale che entrerà dentro la cassa. Quindi scolleghiamo il buzzer. Colleghiamo il potenziometro. Sul pin più a sinistra andiamo a collegare il condensatore. Al condensatore colleghiamo il segnale in uscita dal pin 10 di arduino. Nel pin più a destra del potenziometro colleghiamo il ground. Il pin centrale del potenziometro lo colleghiamo al positivo della cassa. Quindi nel nostro caso qui è il cavo rosso. e l'uscita negativa della cassa quindi il polo negativo lo colleghiamo anch'esso al ground. E ora ragazzi la parte più bella. Andiamo a vedere come creare una canzone con arduino. Ed eccoci arrivati alla parte codice. Come prima cosa definiamo una macro per il pin 10 ovvero il pin collegato al buzzer. Successivamente andiamo ad inizializzare una variabile song speed per poi utilizzarla per definire la velocità di riproduzione della canzone. Tutte queste macro che vedete qui sono praticamente le frequenze a partire dal do più basso fino al si più alto appunto di tutte queste note. Potete anche trovarle online ma vi consigliamo di copiarle e incollarle direttamente nel vostro codice. Abbiamo definito tutte queste macro appunto perché la funzione ton di arduino accetta come parametri ovviamente il pin del buzzer, la frequenza della nota che dovrà riprodurre e la durata di questa nota. Quindi per velocizzare la cosa noi creiamo la macro e ogni volta che ci serve un do scriveremo do 4 se è un do basso o do 5 se è un do alto. Abbiamo scritto il codice soltanto nel void setup perché altrimenti riprodurrebbe all'infinito la canzone. Quindi qui andiamo a definire il pin buzzer come un output. Creiamo un for da 0 al numero di note presenti nella canzone. In questa canzone sono 179. Ad ogni ciclo definiamo weight che è la durata della nota moltiplicata per la velocità di riproduzione della canzone e andiamo a passare tutti questi parametri all'interno della funzione. Quindi il pin del buzzer, il vettore delle note che adesso vi mostrerò. In questo caso passiamo la iesima nota con la iesima durata ed infine scriviamo un delay relativo alla durata. Quello che ci rimane da fare ora è scrivere la canzone. Nel nostro caso abbiamo scelto la canzone di Perfect di Ed Sheeran semplicemente perché non si trovava online così da avere qualcosa di originale. Ammettiamo che la canzone non è venuta proprio come avremmo voluto. Vi lasceremo il codice in descrizione in modo tale da darvi l'opportunità di migliorarla. Se riuscirete a migliorarla mandatecela per mail e nel prossimo video ringrazieremo chi avrà realizzato la canzone migliore. E mi raccomando iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati. Tornando al codice quello che ci rimaneva da fare era creare un vettore di note. Questo vettore conterrà tutte le note che compongono lo spartito. Quindi praticamente è il nostro vettore canzone, quello che andremo a passare alla funzione tone, proprio qui. Quello che dovrete fare sarà prendere la prima nota e scriverla qui e successivamente scrivere anche le successive fino ad arrivare al termine della canzone ovviamente. Infine andiamo a creare il vettore della durata della nota. Ovviamente il primo elemento del vettore corrisponderà al primo elemento del vettore delle note. Questa parte qui è molto più tecnica. Si addice di più a un musicista più che a un informatico. Appunto per questo non siamo riusciti a creare una canzone perfettamente orecchiabile. In ogni modo leggendo lo spartito dovrete andare a scrivere la durata della nota in millisecondi. Un'ultima cosa riguardo al codice. Qui potete vedere che abbiamo scritto degli zero e questi corrispondono a delle pause all'interno della canzone. Ed eccoci arrivati al termine del tutorial. Ora andremo a collegare Arduino a una fonte di alimentazione. In teoria questa dovrebbe essere perfect di Ed Sheeran. Se noi andiamo a variare i valori del potenziometro possiamo sentire che riusciamo ad alzare o abbassare il volume. Naturalmente un potenziometro da 10 kg è fin troppo grande per gestire il volume di una cassa di queste dimensioni. Un potenziometro da 1 kg sarebbe stato già meglio. A questo punto il tutorial è terminato ti invitiamo ad iscriverti e a lasciare un like se ti è piaciuto il video. Ti ricordiamo che puoi seguirci anche su Instagram e su Facebook sulla pagina di progetto. In ogni modo ci vediamo nel prossimo video.